Ciao a tutti ragazzi e ragazze andando in questo nuovo video Io sono Marina E oggi sono ad appunto con la mia mia amica E gli vorrò fare un prank Un prank molto Cioè molto pesante infatti Vi dirò che appunto non voglio essere Più la sua mia amica Non so com'è la Gia Adesso sto mi stavendo leggendo da lei Quindi ci vediamo dopo Ciao Ok Sono mia casa mia amica Lei è attimo scisa Adesso posiziona il telefono in camera E batte lo scherzo Si Si vediamo questa seria No non lo faccio a me Mi cattiva la serie E' una volta seria vero Ma non lo chiede E' una volta seria Perché è un po' brutta E' bella Cioè no Bella No No E' un po' brutto E' un po' bella A me è il Orlando Vi stavo suami stavo la vista E' una volta Si stavo pensando un po' Sennò io forse da essa te mandare una Erasm Ecco come una? va a una va a una e due un po' per tenere due non si che non si perchè non ti lascio tutto no perchè ci sono miscli ah si, ho detto no e no escusi cioè è una cosa un po' dispiaciuta anche perchè poi quello che c'è essendo che appunto mi è andata a mare stamattina poi scoprendo che appunto tu sei andata a... ahahah sei andata a mare sei andata a mare no? sei andata a mare e ho detto ah beh infatti non me lo guardai non lo so infatti lo so infatti volevi a metà abitato stasera però in tanto che tempo essendo che oggi abbiamo molto spesso di saluto ai miei amici che si vede non mi resta un'ica ahahah 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 nooo 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 dai era bellissimo ma secondo te potevamo mai essere cioè non potevamo mai dire vicino a me non potevamo mai dire vicino a me non potevamo mai essere la migliore amica eh è bello perché su questo tempo a me non mi piacesse queste scene yeah cioè ci ho messo tre anni per nasce per questo non volevo... eh ti ho messo tre anni per questo non sono venuta a venire contro me uuuu dai che fregge bene raga ho fallito oh mamma no 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 Grazie a tutti